Anche quest'anno siamo giunti al festività di Natale e del nuovo anno. Mi sento di rivolgere un sincero augurio a tutti i cittadini e a tutta la città. E quest'anno un augurio che mi sento di portare è quello di speranza, perché il 2015 è stato un anno importante, anche per quello che riguarda l'amministrazione, dei grandi progetti, di cui molti vedranno la luce nel 2016, e quindi mi fa pensare che ci siano ricadute importanti e quindi anche ritorni importanti anche in termini di lavoro per la nostra città e per i nostri concittadini. Quindi un augurio vero a tutti di speranza di vedere il futuro con ottimismo. E soprattutto voglio rivolgere a tutte le donne, gli uomini, i bambini di Fano che queste festività siano un'occasione anche per fermarsi. Per recuperare quei valori, quei legami forti, a cominciare dalle proprie famiglie, per recuperare quelle energie, ma soprattutto per sentirsi più uniti, per sentirsi più comunità. Per cui veramente a nome dell'amministrazione, come sindaco, mi sento di augurare a tutti voi un buon Natale e un buon anno, che sia anche foriero di belle cose e che sia anche l'occasione per raggiungere quegli obiettivi che ognuno si prefigge. Quindi veramente auguri a tutti voi e alle persone care che portate nel cuore.